Questo è Valerio, un uomo di Giza che ha fatto il giro del mondo. Ma poi ti metto sul bloc, eh? Mi dai l'autorizzazione? Eh sì, ciao! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Al prossimo episodio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio